Si è conclusa ieri a Basso la prima giornata dei lavori congressuali della CISL Abruzzo e Molise alla presenza del segretario generale della CISL nazionale Luigi Sbarra e del segretario nazionale Ignazio Ganga. Presente anche il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il segretario generale interregionale Leo Malandra che ha aperto il dibattito in un lungo e toccante discorso al termine del quale ha rassegnato le dimissioni dopo 44 anni di sindacato. La parola ai protagonisti. E in questo è importantissimo che la politica dia delle risposte certe per migliorare le cose insieme alla 24, la 25, tutta la dorsale adriatica che deve in qualche modo rendere più competitivo il nostro territorio. Questi sono gli obiettivi che in questo momento ci teniamo a dover raggiungere insieme a una sanità migliore, una sanità che deve sicuramente dare risposte ai cittadini e che deve limitare la mobilità passiva che invece è data nei confronti dell'esterno. Ecco, sono tutti obiettivi che quel nuovo sindacato che si andrà a formare da domani dovrà portare avanti e sono certo che lo farà nel migliore dei modi per il bene del nostro Abruzzo. Noi abbiamo formidabili opportunità davanti a noi, dobbiamo attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con un massiccio investimento sulle infrastrutture, c'è il fondo complementare dedicato essenzialmente agli investimenti infrastrutturali, stiamo cominciando a avviare la discussione sul nuovo ciclo di riprogrammazione dei fondi comunitari del nuovo settennio 21-27, ci sono le risorse del fondo sviluppo e coesione, tutto mancherà nei prossimi anni tranne che le risorse. Grazie a tutti.